Kinder Sorpresa presenta Superman, Batman, Flash, Green Lantern, sono di nuovo in azione! Finalmente insieme in Kinder Sorpresa! Anche per voi inizia l'avventura con Justice League e Kinder Sorpresa! L'ovetto con il buon cioccolato Kinder! Justice League, i nuovi eroi di Kinder Sorpresa! Cercali! Tra più di 100 nuove sorprese!